Ci puoi raccontare l'intera vicenda che vi ha visto contrapposti al comune di Palermo da quando avete questo gazebo? Da vent'anni abbiamo la struttura fuori, siamo sempre autorizzati, poi dopo hanno detto che la struttura che avevamo non era più idonea e ci hanno fatto costruire questo gazebo a norma, come volevano loro, di legno, cioè 26.000 euro di gazebo. Praticamente adesso non è più idoneo, non è possibile tenerlo, le spiegazioni non sono state date chiare, non si capisce se è per il fattore dei posteggi, perché vogliono i posti delle auto, sinceramente non si riesce a comprendere questo fattore. E noi siamo stati multati con una sanzione di chiusura di 5 giorni. Ho chiesto una proroga di 20 giorni che per legge so che mi spetta, ma me l'hanno pure bocciata. Non mi è stata data una motivazione, nessuna motivazione.